no si ma tanto alla fine oltre che me te era Rush, Gib, che poi sei anche Priel si infatti è Great Youtuber Priel bel nome eh, bel nome dedicato a GTO, grande manga e anime l'hai detto il manga? no, ho intenzione di comprarmelo poi tutta appena avevo dei soldi appena andiamo a rubare? si perchè siamo poveri noi, noi Youtuber siamo tutti poi, è una leggenda quella lì che siamo ricchi, no, noi siamo tutti poveri soprattutto, soprattutto perchè noi noi dobbiamo ancora iniziare si poi c'è ci sono Youtuber che che fecca è età hanno popolarità e possono permettersi di fare un po' ciò che tutti vogliono ora che attenzione con cancoro perchè? che poi è comunque Kabuta non è campo c'è tu mi prendi gli accalci in faccia sennò il quarto caga e mi finisca che cazzo sei uscito da gli Benji oh è molto figa aspetta un po' abbiamo finito i salti un po' un po' un po' un po' un po' a un po' un po' un po' avuto 5 6 6 6 6 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 il capu comodo sa 15 14 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 guarda appena appena guarda appena appena svegliato guarda oh ma ti apposto ma perchè mi sono un po' fatto si che conta che all'interno non servono manco gli occhi suoi si le hanno cavato gli occhi e messo quelli di un altro oh metto il mio amico killer guido assomiglia tanto a blade ma poi il cane no no e chi possa mettere ah ti accederò nella casa eh lui facciamo l'idea caputta ho capito adesso ti faccio a coolastelestation dove è il film aspetta chi vuoi cercare non ricordo il nome è il tipo che l'amico di naruto che ha il sigillo lo stesso potere del primo octavo ah Yamato è lì che cosa c'entrano con killer di quelli no loro potere derivano tante responsabilità grandi responsabilità grandi poteri da grandi poteri derivano grandi responsabilità wow credo che questa sia comunque l'ultima partita oh guarda 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 arrivo che cazzo che cazzo che cazzo la porta che cazzo oh che cazzo oh non ero pure sti grito stai facendo un casino della madonna stai andando in panico non ho più sostituzioni non è un problema non è un tremimo e nabiti carica non è un sacro oh non lo odio questa porta non è un sacro oh 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 Natanta Bo adesso finitela con lui Che è potente quanto disgustoso Perché Ok dimenticate l'ultima frase Tanto e tanto disgusto E vabbò dai Ma è discusso solo quando Il tipo è dietro con due teste Tranquillo Gli esce dalla cervicale il fratello Dai vabbè Questo gameplay si è trovato fin troppo Quasi venti minuti E il che è troppo Dai salutiamo Salute a pubblicitati ancora un po' Saluto tutti Ricordatevi di iscrivervi al mio canale Che sarà disponibile da domani Addirittura Sono nelle più grandi centri commerciali Toy Center YouTube YouTube Center Jeep Great YouTube Albreer E come ci cercano loro? Cioè che nick hai per trovarti Bello Jeep Sì Ah ma quindi è vero Creare la carattina Sì infatti Da domani Ecco perché da domani E' un coglione che so E vabbò dai Da domani Solo per Ci sarà anche un'edizione limitata Per chi Per i primi cinque iscritti Avranno un Materasso gratis The Lightning Flex Ecco bravo bravo Un'ottima scelta Invece io faccio che minacciare Tutti gli altri Cioè Dicevo Vinci Non ti iscrivi Ti taglio la gola Perfetto Sì E mettete mi piace a questo video Anche se non arriverete alla fine O se è voltato direttamente Alla fine del video Penso che neanche io riuscirò A guardarmelo tutto Fino alla fine E vabbò dai Facciamo anche salutare E niente Dai Ciao a tutti Alla prossima Ragazzi